Sono stata molto lieta oggi di incontrare il ministro austriaco dell'interno, Karne Hamer, insieme alla sua delegazione, nonostante che siamo in un periodo di pandemia, ma era importante incontrarci perché si tratta di rendere ancora più efficienti i nostri rapporti di collaborazione, anche per quanto riguarda l'immigrazione clandestina. La nostra cooperazione trasfrontaliera ha prodotto dei risultati profili per quel che riguarda il contenimento dei flussi migratori illegali e d'altra parte abbiamo discusso anche del progetto del patto asilo pervenuto dalla Commissione Unione Europea, abbiamo trovato dei punti di contatto e riteniamo che prioritario debba essere un intervento da parte dell'Europa sui paesi terzi per evitare quelle che sono le immigrazioni in misura così elevata al di fuori dei numeri consentiti per ciascuno Stato. Abbiamo anche parlato dell'ottima collaborazione tra le famostre forze di polizia per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata e anche per contrastare i traffici illeciti che ci sono tra i nostri paesi. Quindi nello spirito di massima collaborazione abbiamo ascoltato anche quelle che sono state le proposte fatte di accedere a questa piattaforma informatica predisposta dall'Austria e ci siamo riservati tutti gli opportuni approfondimenti ritenendo che comunque possa essere una strumentazione idonea a rafforzare i nostri rapporti di cooperazione. Grazie.